Anticipazioni puntata Il segreto di mercoledì 19 ottobre 2016 Candela spinge Bosco a riprendere il suo lavoro, ma il giovane si rifiuta di farlo e nemmeno l'intervento di Severo, chiamato da Candela, riesce a fargli cambiare idea. Rientrato a Yaral dopo aver parlato con Severo, Bosco prende suo figlio, il piccolo Beltran, e sparisce con lui senza avvisare nessuno.